Consigliere Repetto, una proposta importante arriva in comune dal suo gruppo consigliare. Una proposta molto molto importante, una proposta di delibera per la modifica del regolamento di pulizia urbana. Tra le nostre proposte di modifica le più importanti sono estensione del dasco urbano, quindi qua in Piazza Nazini, quindi qua dietro, Piazza Valter ovviamente alla luce degli eventi che sono venuti recentemente. Via Piani e Corso Libertà, in asprimento delle sanzioni per imbrattamenti e per danneggiamenti di edifici pubblici e privati, in asprimento di sanzioni per chi non raccoglie le deiezioni dei cani e, novità più importante, l'inserimento di una norma che sanziona chi acquista o contratta per acquistare sostanti stupefacenti in luogo pubblico. Una proposta che arriva dopo pochi giorni dal brutto episodio di Piazza Valter, era una coincidenza o ci stavate già lavorando? Ci stavamo già lavorando, ovviamente casca a fagiolo, l'estensione del dasco urbano era assolutamente necessaria per la piazza principale della nostra città.